Grazie a tutti. Sì, sono grossi. Come è successo anche un po' ieri, si sono notate forse delle difficoltà di amalgama e anche a muro. Spesso magari mi sono passate le zone di braccia, anche se mi sono fatto comunque di... Poi, poi? Sì, questo secondo me è... Non so, sarà il cocccio che mi vede la partita dalla panchina, magari vi dirà il contrario sicuramente. Secondo me abbiamo fatto un po' di calentare un po' di calentare in generale. Forse è stata anche la ricezione. Sì, la ricezione, poi la copertura, abbiamo fatto vedere le coperture che... Un po' di calentare, anche se la tuffia sicuramente serve già non neanche la pazza. Senti, ci spieghi un po' questo segno che... Questo è stato un regalo, è stato un regalo. Allora lo portiamo come portafortuna, una per spada con noi. E si può dire... Cosa c'è scritto? Cristina, ha sempre scritto. Ado, Ubi, Fische, Oni. L'abbiamo scritto per la Roma lì. Significa praticamente tutti assieme, tutti nello stesso perso. Sì, sicuro? Lui ne fa la forza. Io non lo so, latino, ma no. Lui ne fa la forza. Lui ne fa la forza. Lui ne fa la forza e penso che lo dimostrei da in gioco. Allora, ci vediamo quando... Mercoledì! Ciao, grazie!